tensioni, qua vado avanti, 6, 8, 4, dipende da quanto osso hai, questa invece che vedete qua monitor è una lastra che ha gli impianti dentali con i pilastri che escono dalla gengiva, questi qui, questo è l'impianto, esatto, qua incollano i denti sopra, questi pilastri capisci che quando inserisci i denti da qualche parte tira e sono queste le forze laterali, le uniche forze che l'impianto non sopporta, perché quando le trasmetti all'osso, vi ho detto prima, tiri e si riassorbe, perdi l'osso attorno all'impianto e si vedeva molto bene qua come si riassorbe l'osso attorno all'impianto, si crea proprio un cono di riassorbimento attorno all'impianto, questa parte scura, qua e qua, qui osso non ce n'è, qua è tutta roba morbida, gengiva, perde da solo, si ritroverà l'arcata in mano, no, è perduto ormai, perché quello che succede è che quando l'osso si riassorbe qua, la gengiva pure si stacca, entra un biofilm di batteri qua, che è uno yogurt che non fa più riattaccare la gengiva né formare l'osso, anzi lo fa solo allontanare di più, un'infezione, quella è una tasca sull'impianto, una tasca profonda sull'impianto, che si chiama perimplantite, ve la faccio vedere qua, perimplantite, la perimplantite può essere o perfumo oppure proprio meccanica, vedi, l'osso attorno all'impianto si riassorbe, ed è una cosa questa, vedi qua come inizia, ma qua se vai a aprire, se vai a aprire, vedi, poi nello stadio più avanzato proprio c'è gli impianti esposti, si riassorbe completamente l'osso, ok, qual è la soluzione in questi casi? ok, una, togli tutto l'impianto, sviti, ricostruisci l'osso, fai l'opposto di quello che si è verificato, hai perduto l'osso, perdi l'impianto, togli l'impianto, ricostruisci l'osso, rimetti l'impianto, per esempio, oppure cosa puoi fare? Puoi lucidare, abbiamo detto, il problema è il biofilm che si crea sull'impianto, vedi qua, fai tipo la levigatura radicolare, lo devi lucidare l'impianto, gli togli tutte le sfire, lo rendi lucido a specchio, poi ci metti l'osso e devi sperare che non ci sia rimasto qualche batterio sulla superficie, se no quello ti ricrea il biofilm. Tasso di successo, molto basso, funziona, però è basso, nel senso l'osso non ti si riformerà mai fino a qua, ti si riforma fino a metà, ok? Altra cosa è se ti rimane l'impianto, svitalo, ricostruisci questa taschina mettendoci dell'osso dentro, chiudi con una tenda, chiudi le gengive, un punto, due punti e aspetti che guarisce e poi rimetti dopo quattro mesi l'impianto, ne facciamo tanti di questi, però noi preferiamo sempre svitare via gli impianti, perché poi gli impianti se hanno creato questo problema è perché c'era una causa a monte, la protesi, però se c'è la protesi, la componentistica per incollare e io devo fare un'arcata completa, non costruisco casa con le bombe sotto, tolgo tutto, faccio pulizia completa, il paziente non è che torna qua sempre con i problemi, devi chiuderli, già sono tanti quelli con cui arrivano, sono reinterventi chirurgici, sono rischi accumulati di tante zone della bocca che insieme danno un rischio accumulato elevato, quindi in questi casi devi eliminare i rischi cercando di creartene anche meno possibile, taglia largo, quello che dicevo sempre alla prima squadra chirurgica, tagliate largo, non fate quelli che vogliono salvare, perché vi state solamente mettendo il paziente sulla poltrona tra 4 mesi, che torna.